Dai un calcio al diabete, è il nome della manifestazione che ci sarà nei prossimi giorni, quali sono i dettagli? Allora il 26 al Zandonato, all'auditorium, i professori, i medici si incontreranno con una popolazione di ragazzi, quelli delle scuole calcio, perché interverranno anche i giocatori dell'Arezzo e verranno regalati, in questa situazione verranno regalati dei palloni di cuoio, chiaramente non singolarmente, ma alle varie squadre che interverranno e si parlerà di stili corretti di vita e una sana alimentazione. Qual è l'obiettivo? Insomma fare informazione corretta fin dai più piccoli? Sì, poiché ci sono presentate ultimamente delle situazioni abbastanza particolari anche nel mondo dei giovani, che il diabete si sta presentando anche lì, purtroppo sì, queste situazioni che fanno prevenzione in realtà aiutano a capire che se uno mangia molte merendine può darsi anche che non vada a finire molto bene. Grazie a tutti.